Buona giornata a tutti fratelli e sorelle bianconere, ben ritrovati qui sul mio canale per un mio nuovissimo video Innanzitutto non ve lo dico mai, iscrivetevi, iscrivetevi perché c'è qualcuno che guarda i miei video e non è iscritto Lascia un'iscrizione, non costa nulla e mettete like al video Di cosa parleremo stamattina? Allora, io grossomodo mi sono rivisto qualche spezzone della partita di ieri, ho visto qualche highlights Ho visto un Allegri parecchio nervoso, parecchio nervoso, purtroppo tu, caro mio, caro mio, le critiche non le sai accettare Perché appena ti criticano, appena ti toccano qualche tuo pupiglio, vedi del ciglio, vedi Ken Impazzisci, impazzisci, volevo un po' di più su fermarmi, più caldo sugli episodi Il gol di Vlaovic, l'ho rivisto diciamo, sembrerebbe, sembrerebbe che Vlaovic venga tenuto in gioco Però, al di là dell'episodo, ragazzi, abbiamo fatto cagare perché secondo tempo non ripartivamo più, non tenevamo su più un pallone Avevamo messo praticamente la difesa 5, giocavamo col 5-4-1 e a me queste cose mi fanno imbezzialire Perché dopo è inutile aumentarsi, ma come, ma come, ma come Se tu non chiudi le partite, prima o poi il gol lo prendi Perché, ragazzi, è inutile girarsi intorno Tu metti una difesa 5, prima o poi il difensore la cazzate la fa Non può stare concentrato tutto il tempo Però ti è andata bene, ti è andata bene, caro Allegri, perché bisogna ringraziare il VAR L'ho detto anche ieri, il VAR praticamente ti ha salvato il culo Hai vinto la partita, però hai giocato una partita penosa Perché al di là del gol di Rabiot, che chiaramente bisogna anche contestualizzare Perché lì Rabiot se l'è mangiato il gol, cioè è stato salvato perché la palla aveva superato le linee di porta E poi per il resto è stata una partitoscena, cioè anche in fase di impostazionazione Non abbiamo una cazzo di idea Andiamo sempre per via esterna, ecco, con Kostic, con Chiesa Che non mi sono piaciuti ieri Però non andiamo mai in verticale, cioè non cerchiamo mai un 1-2 Perché Allegri su queste cose non ci lavora, non ci lavorerà mai Perché lui si affida all'episodio, si affida al giocato a Singla La vedi anche ieri perché tu il grosso lo fa di Maria e basta Poi non hai fatto più un cazzo, cioè le due occasioni di camp sono arrivate proprio sporadicamente così Ma basta Più quanto voglio soffermarmi quello che è successo dopo Perché, cioè, voglio dare una mia opinione Voi sapete benissimo che io Allegri non lo sopporto più Ho visto ieri un filmato, sembrerebbe che lui si rivolga a un tifoso Il tifoso non si capisce tanto dal video, no? Il tifoso mi ha detto Fai schifo, fai queste cose qua E lui gli ha detto Stai zitto, vieni qua Allora, io sono dell'idea che Se dovesse andare io allo stadio Ma in questo clima che c'è non ci andrei Non ci andrei perché non butto via i soli per vedere questo scempio, sinceramente Però Io parlo per me Parlo per me Io se andassi allo stadio Chiaramente sosterei la squadra Però durante la partita Può essere che mi metterei a criticare Ma è anche giusto, ragazzi Cioè, lì si parla di una tribuna importante Cioè, gente che va a spendere 100-200 euro Cioè, magari all'inizio della partita no All'inizio della partita no Però quando le cose Quando io vedo qualcosa che non mi piace Ho tutto il diritto di criticare Cioè, tu Allegri non puoi Non puoi in conferenza stampa Dire Eh, vedo tifosi Che criticano e fischiano per partito preso Certi giocatori Riferendosi a De Sciglio A Ken A Paredes Ma 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 stai bene con la testa? Ma ci stai? Perché Magari il tifoso può aver sbagliato Per carità, eh Perché Diciamo Da una parte Anch'io avrei agito così Perché Uno Più che altro tifoso Ha reagito così Perché ha visto I cambi scelerati Che hai fatto Perché hai messo Paredes Paredes Che da settembre Che sta facendo schifo Che sta facendo cagare Lo stesso Paredes Che hai voluto tu Caro Allegri Quindi Assumiti le tue Cazzo di responsabilità È inutile È inutile Che Che parli di tifosi Parli di tifosi Cosa? Io Io ho tutto il diritto Di criticare E anche di fischiare Magari Perché Perché uno che paga 200 euro In tribuna Ha tutto il diritto Di fischiare Se vede Qualcosa Che non gli piace Perché I cambi Che hai fatto ieri Veramente sono Tra parti Il patentino Ormai Ogni partita Fai questi cambi Di merda Però Tu le partite Le devi chiudere Non puoi Chiuderti Tutto il secondo tempo Difesa Aspettare L'avversario E dopo Bisogna ringraziare Il VAR Perché Lì Il VAR Secondo me È andato È andato a vedere L'arbitro Per Per il fuorigioco Che c'era Di giocatore La frontina Non per il fallo Perché il VAR Non può Non può Andare Andare a vedere Per un fallo Una spinta L'arbitro Andò a vedere Perché C'era il fuorigioco Del giocatore La frontina Cioè Ma tornando Nel discorso Di prima Cioè È inutile È inutile Che ti incazzi Che Che Dici Stai zitto Ma stai zitto Cosa Quello che deve stare zitto Sei te Caro allegri Vai a fare In culo Vai a fare In culo In un anno e mezzo Cosa hai fatto vedere Cosa hai fatto Hai Hai migliorato Qualcosa Hai Hai fatto vedere Un qualcosa Un minimo di gioco Non hai un cazzo Di schema Non insegni Non hai valorizzato Nessun giocatore E non Dittemi Eh ma Ha messo i giovani I giovani Cosa Che li ha messi Perché Praticamente Ha avuto Mezza squadra Fuori Ma di che cazzo Stiamo parlando E devo sentirmi dire Ma stai zitto Stai zitto tu Caro allegri Dei miei coglioni Che in un anno e mezzo Ci hai fatto fare Figure Figure a go go In casa col Monza Siamo usciti Dalla Champions Con soli Tre punti Il peggior risultato Della nostra storia E devo sentirmi Da Da questo babbuino Perché questo ormai È diventato un babbuino I tifosi I tifosi Eh ci sono tifosi Che Che fischiano E Criticano Per il partito preso Ma vai a fanculo Va Ma vai a fanculo Il tifoso Ha tutto il diritto Di criticare Ha tutto il diritto Ci sono modi E modi Eh Cioè se vai allo stadio Cerchi Di darti Un contenimento Però non mi sembra Che gli abbia detto Chissà cosa Eh La verità Caro Allegri Che tu non accetti le critiche Per Tu Per te Devi essere Dio Dio Tu Tu sei convinto Che sei il Dio Tu sai tutto di calcio Capisci tutto te Non accetti Non accetti mai Una critica Invece ci sono allenatori Che quando sbagliano Lo dicono Lo dicono Ho sbagliato Ho preparato male Io la partita Da questa 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 cosa Io non la sento mai Dire da te Mai Mai Sempre colpa Di giocatori Eh ma Quella ha sbagliato Quella giocata Eh Ho sentito ieri Abbiamo difeso bene Abbiamo difeso bene Cosa Cosa abbiamo difeso bene Abbiamo sofferto Tutto il secondo tempo Ma che cazzo dici Io ragazzi Non ne posso più Non ne posso più E vi dirò Io spero che Che questo soggetto Se ne vada via In estate Perché un altro anno Con questo babbuino Di merda Non ce la faccio più E poi mi dicono Eh ma perché Ce l'hai con Allegri Ce l'ho Ce l'hai come Perché In questo anno e mezzo Ha detto Stronzate Sostronzate Cioè l'anno scorso È il battello Di Venezia Poi quando siamo usciti Con il Viglia Real Eh non perché Ci chiamiamo Juventus Dobbiamo vincere sempre Quest'anno Dopo la partita A Firenze Ha detto Eh noi dobbiamo fare La corsa sul Benfica E dopo Il Benfica Ti ha ficcato Quattro banani in culo E si è uscito Da Gironi Poi Dichiarazione Di due settimane fa Noi dobbiamo Giocare per la salvezza Ma Ma voi Ma voi Ci siete Ci fate Ma La cosa che mi meraviglia Di più È il tifo Passionale Che difende ancora Quest'allenatore Voi state Benissimo Che a me piace Tanto il clima Della curva Però Cioè Continuare a difendere Allegri Ragazzi Vuol dire Essere Autolesionisti Farsi male Farsi male da soli Però Cari Allegri Non venirmi a fare La morale Non venirmi a fare La morale Su come E cosa Devo fare io Su come Devo ti fare Io ti Fa come Cazzo Voglio Se Se c'è da criticare Critico Se c'è da elogiare Elogio Se c'è anche da fischiare Fischio Non me ne interessa un cazzo Io sono così Io sono un tifoso sanguigno Passionale Perché se vedo un qualcosa Che non mi piace Perché io pago Io ti pago Caro mio Tu prendi 9 milioni all'anno 9 cucuzze Caro mio E in questo Un anno e mezzo Tu non hai fatto vedere Un cazzo Hai fatto vedere Solo figure di merda Quindi io ho tutto il diritto Di criticarti Se tu Non accetti le critiche Caro mio Sei messo male Sei messo male Ma io Tifoso Io 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 Parlo per me Cioè ma Parlo anche a livello in generale Cioè non è che Parlo solo per me Ma io tifoso Che Io per fortuna Quest'anno Non ho fatto l'abbonamento Ad azone Però i tifosi Che pagano E anche quelli che vanno allo stadio Hanno tutto il diritto Di criticare Cioè Uno perché Va allo stadio Non può criticare Ma dove siamo arrivati Ragazzi Cioè Allora Andiamo Andiamo in bar Andiamo Andiamo Il campetto Il campetto di calcio Ci prendiamo La pira E basta Cioè Uno Se vai allo stadio Ha tutto il diritto Di criticare Sostiene la squadra Ma Ha tutto il diritto Perché Ha pagato Cioè Ha pagato Per vedere E sta vedendo E sta vedendo Uno spettacolo Indecoroso Ma ha tutto il diritto Ma che tu mi venga A fare la morale E mi dici Come devo Come devo fare Il tifoso Cioè Scusa Permetti È meglio che È meglio che te Stai zitto È meglio te Che stai zitto Perché Siccome ti toccano I tuoi cari pupilli No De Sciglio Ken Che Ken Ragazzi Cioè È ovvio Che viene criticato Cioè Sta facendo cagare Cioè Non dici che È la prima partita Dici Bon Cioè Qua ragazzi È tutto l'anno Che sta facendo schivo Ma anche Paredes Cioè Ho tutto il diritto Di criticarli No Non si può criticare Bisogna Dire Zì Zì Padrone Zì Padrone I classici Yes men No Che dicono Sì sì A tutto Ma La morale La morale Da te Caro Allegri Non la posso accettare Cioè Tu fai il tuo lavoro Che lo stai facendo Di merda Per i soldi Che prendi Io faccio il tifoso Ma non Ma non venirmi a dire Come devo fare io il tifoso Perché Punto primo Io non sono pagato Quindi io posso dire Quel cazzo che voglio Tu sei pagato Tu sei pagato E per quello che sei pagato Non stai rendendo Ragazzi Io chiuderei qua Perché Già Mi sono dilungato troppo Fatemi sapere Ma La scenata Perché una scenata Hai fatto una scenata Perché Vuoi farti vedere Per carità Magari Il tifoso Può avere sbagliato Però Lo capisco Perché Anch'io farei così Se vedo Un qualcosa Che non mi piace Ma Più che altro Gli ennesimi Cambi Gli ennesimi Cambi Schifosi Che hai fatto Che hai Messo la squadra Dietro Anche a me Mi farebbero girare I coglioni Però Non accetto da te Stai zitto Ma stai zitto Cosa Quello che deve stare zitto Sei te Caro allegri Per Per lo stipendio Che prendi E per le figure di merda Che ci hai fatto fare Sei tu Che dovresti chiedere Scusa Ma Figuriamoci Figuriamoci Tu non hai Non hai l'umiltà Non sei umile No Tu sei troppo orgoglioso No Tu pensi di essere L'inominabile Tu pensi di essere Bravo di tutto Ma dai Dai Cosa 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 Fatto Questo amatore Per Per essere definito Intoccabile Perché ormai Ragazzi Qualsiasi cosa Dici su Allegri La gente La gente Di massacra Però ripeto Se ci fosse stato Un altro posto Di Allegri Sarebbe stato Massacrato In quest'anno e mezzo Siccome Allegri Si possono trovare Tutte le giustificazioni Del mondo Perché In atta Che ho sentito Eh Ma è un periodo Difficile 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 Un anno e mezzo Che ci stiamo facendo schifo Difficile Già Già dal primo Allegri Quando se n'è andato Già lì Era un periodo Un po' difficile Quindi Non troviamo sempre scuse Eh ma la sentenza E prima della sentenza Cosa hai fatto Hai preso 5 5 banane Dal Napoli E si è uscito Al girano di Champions Quindi Non è che Stessi facendo Chissà che faville Prima della sentenza Quindi non usiamo Queste scuse Del cazzo Perché queste sono Scuse del cazzo Per giustificare Allegri È per le figure Di merda Che sta facendo E dopo ieri Dopo la scenata Che ha fatto Ho sentito ancora Giustificazioni Voi Purtroppo Allegri È tutelato Sia dalla stampa Ma sappiamo E sia Dalla tifoseria Perché purtroppo La maggior parte Dei tifosi Mette Mette Allegri Sul piedistallo Dei colori Dei Juventus Chi se ne frega Ma chi se ne frega Tanto Il singolo È più importante Tanto Quello che conta Sono questi Sono questi colori Io Io chiaramente Difenderò La Juventus Da attacchi esterni Dei media Delle altre tifoserie Ma non mi sento Rappresentato Dai tesserati Da questa società E da questo allenatore Ormai questo allenatore Mi viene veramente Il vomito Non mi rappresenta più Io tornerò A difendere I tesserati Se sarò Mi sarò Sentito rappresentato Soprattutto Mi tornerà L'entusiasmo Buona giornata A tutti Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questa Scenata patetica Di Allegri È sempre Fino alla fine Forza Juventus Perché anche io Sei critico Tu sei sempre Criticone Tu non sei un vero È perché voi Voi Visto che Dite che va tutto bene Siete veri Juventini No Sì sì Certo come no Ma dai su Buona giornata A tutti E sempre Fino alla fine Forza Juventus E Allegri Vai a fare In culo Hai Sfracassato Tre quarti Di minchia Stai zitto Ma stai zitto Teva Sfracassato